È stata approvata una delibera di giunta con la quale l'amministrazione comunale di Palermo prende atto della fattibilità del progetto relativo alla realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso nell'asse Villa Franca-Praga, mediante l'utilizzo di una porzione della carreggiata stradale esistente tra la corsia e veicolare e il marciapiede, fisicamente separata attraverso moduli sparti traffico longitudinali. Il programma di mobilità dolce BICIPA si inserisce nell'ambito del piano della rete degli itinerari ciclabili di Palermo. Gli interventi proposti sono conformi alle linee di indirizzo del piano urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana. Nel dettaglio si tratta di 3,8 chilometri di nuova pista ciclabile protetta che si snoderà lungo i seguenti assiviari via Le Praga, via Usonia, via Emilia, via Le Campania, via Le Piemonte, via Boris Giuliano, via Leopardi, via Persanti Mattarella e via Principe di Villa Franca. L'intero percorso intercetta diversi poli scolastici, uffici pubblici e aree verdi. Sarà a doppio senso di marcia con larghezza della pista di 2,5 metri protetti da cordolo. La logica adottata per la scelta dei tracciati ciclabili, si legge nel progetto operativo di dettaglio, vuole rimarcare un ruolo molto importante agli spostamenti in bicicletta, potendosi avvalere dell'integrazione e connessione con gli itinerari ciclabili esistenti in via Giusti, in via Dante e con le corsie riservate, dove è consentito il transito alle biciclette in promiscuo con il TPL esistente in via Le Strasburgo e in via Notarbartolo, valorizzando anche il servizio di bike sharing presente lungo gli assiviari. La durata prevista per la completa realizzazione dell'opera è di 12 mesi. Il sindaco Lelui Corland ha dichiarato che negli ultimi anni, anche a Palermo, si registra un notavolo aumento di cittadini che scelgono la bicicletta per i propri spostamenti. Realizzare nuove piste ciclabili che permettono di muoversi in sicurezza è quindi un modo per andare incontro alle esigenze di chi già ha fatto questa scelta e per incoraggiare ancora di più l'utilizzo delle due ruote. È importante che in questo processo svolga un ruolo fondamentale l'AMAT, che si conferma azienda che si occupa della mobilità a 360 gradi e sempre più con attenzione alla sostenibilità.